colto da malore mentre si trova alla guida del suo trattore è accaduto questa mattina poco prima delle ore 11 a costalta di compiano nei pressi dell'abitato di strela un agricoltore del posto a v di 67 anni mentre procedeva dall'azienda agricola di famiglia verso la frazione di strela a bordo del mezzo è stato colto da un malore ed è caduto a terra fortunatamente a poche decine di metri di distanza era presente il figlio che ha assistito alla scena ed è riuscito prontamente a fermare il trattore che non ha riportato alcun danno ed impedendo che potesse creare grossi problemi a terzi immediatamente dopo allertato i soccorsi sul posto sono confluiti l'ambulanza infermieristica india della croce rossa di bedonia l'automedica borgotaro 30 i vigili del fuoco di borgotaro i carabinieri della locale stazione e l'elisoccorso del 118 che ha provveduto a trasportare l'uomo non cosciente e in condizioni serie al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di parma i militari al termine delle operazioni hanno provveduto ai rilievi di rito di rito